si vogliono di sottolineare il vetro in nome per lanciare la telecamera se lo vedete voglio lanciare un toucher così a caso qui lanciare un toucher ria a caso asili 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 orta troia dicevi no non era in ferimento questo mi ha dato 100 punti mi ha dato 100 punti ma sei pazzo io ho paura io copro dietro veloci chiunque non serve un cazzo ha fatto 4 di lui ma chi cazzo del rambo